Ciao, ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi finalmente un video cartopazzoso e volevo condividere con voi, farvi vedere la mia collezione di penne colorate. Io le adoro, mi piacciono tantissimo, le uso anche tantissimo, quindi ne ho tante. Perciò direi cominciamo subito, perché sennò di nuovo mi viene uno dei miei soliti video super lunghi. Allora comincio mostrandovi il contenuto di questo stuccio. Oh, aspettate che non si vede, alzo un attimo l'inquadratura così, ecco, si vede un po' di più. Un bel astuccio delle Gorgius che è pieno, pieno, strapieno di penne colorate. Allora adesso le sistemo un attimo così le divido anche per marca e ve le faccio vedere. Eccomi, eccomi con il primo gruppo di penne che vi mostro. Allora, le prime penne sono le mie amate trattopenne. Io le adoro, ma le adoro da sempre, sin dai tempi della scuola posso dire. Per quanto mi riguarda sono le mie preferite. Hanno dei bellissimi colori. Questo era un kit che avevo acquistato tempo fa in una cartoleria qua del mio paese, in cui c'erano tutti questi meravigliosi colori. E io appena ho visto questo set di penne in vetrina, l'ho subito comprato. Cioè, non mi sono posta proprio neanche la domanda. Sono entrata e l'ho comprato subito. I colori sono bellissimi, sono accesi, sono vivaci, sono vibranti. Ce ne sono, come potete vedere, di tantissimi tipi. E soprattutto, secondo me, hanno un grande vantaggio rispetto agli altri tipi di penne. Ora ne proviamo qualcuna insieme, così nel frattempo vi dico, secondo me, quali sono le caratteristiche di queste penne qua migliori rispetto ad altre penne. Allora, la prima caratteristica che vi posso dire è che con queste penne qua si può scrivere tenendo la penna tranquillamente in maniera normale, in mano. Cosa significa? Cosa intendo dire con questo? Che rispetto alle classiche Stabilo, le Point 88, mi sembra che si chiamano, adesso non vorrei dire una cavolata, quelle che hanno la punta fine fine, ve ne faccio vedere una che così mi... scusate il rumore della sedia che ha fatto mentre mi sono alzata. Ve ne faccio vedere una che seppur non è una Stabilo, ma la punta è la stessa. Intendo le penne con questa punta qua, questa qua piccola piccola. Secondo me, l'effetto che danno sul foglio queste due tipologie di penne con questa punta diversa, in realtà è molto simile. Intendo il tratto sul foglio. Con una però differenza per me sostanziale. E cioè, come vi dicevo prima, il tratto penne che ha questa penna così, io la posso tranquillamente tenere in mano come tengo normalmente qualsiasi altra penna. e scrive tranquillamente. Le penne invece, con questa punta qua così fine, tipo gli Stabilo, ripeto, questo non è uno Stabilo, ma comunque la tipologia è questa. Per me, per come sono abituata io a scrivere e a tenere la penna in mano, sono più scomodi. Perché per far venire un bel tratto, io la penna la devo tenere più dritta rispetto al foglio. E per me non è la posizione più naturale per me di tenere una penna. E quindi mi devo proprio sforzare di tenerla più dritta rispetto al foglio. Mentre io sono abituata a scrivere tenendo la penna un po' più obliqua. Spero di essermi spiegata. E questo aspetto già per me, appunto, mi fa preferire assolutamente le trattopene. Come vedete, da questi scherabocchi che ho fatto, la differenza di tratto tra le due, secondo me non c'è. Secondo me scrivono uguale. E quindi, io assolutamente preferisco le trattome, da questo punto di vista. I colori sono comunque bellissimi. Dai fluo, che sono proprio fluo. Adesso magari vi metto vicine un giallo normale e un giallo fluo. E vi faccio vedere che la differenza si vede come. E si vede come che uno... Aspetta che prendo le due che ho usato. Aspettate così. Ecco. Si vede come che uno è giallo normale e uno è giallo fluo. Quindi i colori, per me, sono bellissimi. Un altro aspetto che me le fa preferire rispetto, per esempio, alle penne gel, è che le penne gel, che hanno dei colori stupendi e delle... Adesso ve ne prendo una che ho qua, tanto adesso vi mostro anche queste. Hanno dei colori stupendi, degli effetti bellissimi, perché ci sono quelle neon, quelle glitterate, quelle metallizzate. Sicuramente effetti che in queste qua, fatte in questo modo, non ci sono. O comunque non sono così belli come nelle penne gel. Però le penne gel, per quanto mi riguarda, hanno due particolarità che io sinceramente ritengo difetti, se vogliamo chiamarli difetti. Anche se adoro anche queste, mi piacciono tantissimo. E la differenza sta nel fatto che la penna gel, quando uno scrive, fa questi scherzetti qua. Ora vi avvicino il foglio, così vi faccio capire che cosa intendo. Fa questi scherzetti qua, che quando si scrive, in alcune parti del tratto, salta un po' dei pezzettini, per cui restano dei buchetti, mentre si scrive. Ora, magari qualcuno mi può dire, ho capito, però magari questa penna qua, era da tanto tempo che non la utilizzavi, quindi la punta era magari un po' secchina, e quindi quando l'hai appoggiata, ha fatto inizialmente questo lavoro qua. Sì, sicuramente questo è anche il motivo, però io ho notato che comunque questo lavoro qua, lo fa anche normalmente mentre uno scrive. Ogni tanto, tac, fa il saltino e fa il buco. Cosa che a me è un po' da fastidio. Diciamo che le uso lo stesso, le uso tantissimo lo stesso. Quando mi capita questo lavoro qua, la ripasso sopra. Non è un problema, ecco. Però, se devo dire, una cosa che secondo me, appunto, differenzia queste due tipologie di penne, e che a me non piace, per cui mi fa preferire comunque il tratto penne, è questa. Un'altra cosa, sempre delle pennegelle, è che, diciamo, al contrario di fare il saltino e di fare il buchetto, fanno invece una sbavatura di inchiostro che esce in più. E quindi, anche lì, se ci passi la mano sopra, si sbavano. A parte il fatto che queste qua, cioè le pennegelle, comunque ci mettono un attimino di più per rasciugarsi, e quindi comunque hanno più, hanno più possibilità di sbavatura, ecco, in ogni caso. Ma in più io trovo che comunque, scrivendo, capiti, capiti in queste due cose, cioè, la mancanza di inchiostro, e quindi il buchetto, oppure l'eccesso di inchiostro, e quindi il, qua forse, non so se riesco a farvelo vedere, ecco, se vedete qua, rispetto al resto della scritta, qua, l'inchiostro è uscito di più. E questo cosa significa? Che devi fare un attimo attenzione, a non passarci la mano sopra, ancora di più, perché in quel punto lì, essendoci più inchiostro, ci metterà ancora di più ad asciugare, e se ci passi la mano sopra, fa questo bel lavoro qua, di sbavatura, che è fastidioso. Però, insomma, nulla, cioè, niente di grave, voglio dire, secondo me è una caratteristica, proprio di questa tipologia di penna, e uno lo sa, quindi quando la utilizza, fa un attimo attenzione, in questa cosa, ecco. Comunque, sono passata a parlare delle penne gel, rispetto ai trapto pen, che erano in realtà i protagonisti, i primi protagonisti, che vi volevo appunto mostrare, però appunto, questo per farvi vedere che, cioè, per quanto mi riguarda, questi problemini qua, i trapto pen non ce li hanno, non li fanno assolutamente, e quindi questa cosa, me li fa preferire. E' anche vero, ripeto, che le penne gel, hanno dei colori bellissimi, e degli effetti bellissimi. Allora, visto che parliamo di penne gel, direi, semplicemente, di passare direttamente, alle penne gel. Allora, aspettate che me le avvicino. Queste penne gel, probabilmente, le conosceranno in tanti, o comunque, le cartopazze, le amanti della cartoleria, le conosceranno sicuramente, sono le famose penne gel di Lidl. Io le adoro, ripeto, mi piacciono tantissimo, hanno dei colori stupendi, degli effetti bellissimi. In questo kit, c'erano le penne fluo, le penne pastello, le penne metallizzate, le penne glitterate, colori bellissimi. in più, a pochissimo prezzo, il kit ne ha dentro tantissime, quindi, assolutamente, super promosse. I colori sono veramente, anche molto belli, vari, gli effetti ci sono davvero, oh, scusate, ho fatto traballare il telefono, gli effetti ci sono davvero, ecco, vedete, vedete che cosa succede, con queste penne qua, che fanno questo, questo lavoro, vabbè, adesso magari, è perché un po' che non le usavo, poi dopo, la faccio scrivere dopo, però, questo, secondo me, perché succede, perché, essendo penne gel, quello che, l'inchiostro che hanno dentro, è liquido, cioè, non è proprio liquido, è in gel, appunto, però, che cosa, cosa, cosa voglio dire, non so se riesco a spiegarmi, per dire, se è una penna gel, la tenete nel portapenne, girata per così, quindi, con la punta in alto, l'inchiostro che c'è dentro, tende a scivolare giù, e quindi, cosa succede, che quando scrivete, fa quel lavoro lì di prima, per cui, la dovete ritenere, per un po' di giorni, a testa in giù, in modo che il gel, rivada di nuovo, verso la punta, e allora poi, riscriverà di nuovo, però, insomma, tutte cose, tutte caratteristiche, ripeto, niente di grave, secondo me, sono una caratteristica, sono delle caratteristiche, proprio tipiche, di queste penne qua, che per contro, invece, hanno dei colori, bellissimi, luccicanti, quelle con i glitter, sono stupende, io le adoro, vediamo se riesco, avvicinandovi, il foglio, a farvi vedere, ma tanto, sicuramente le conoscete, vede, no, forse non si vede, non riesco a capire, dallo schermo del telefono, se si vede o meno, che in questa penna qua, e anche in questa penna qua, ci sono i glitter dentro, e beh, comunque, io le adoro, sono bellissime, le uso moltissimo, soprattutto sull'album, sull'album, foto, delle, delle mie bimbe, dove appiccico, tutte le foto che faccio, io sono una patita di foto, quindi ne faccio tantissime, e da quando le mie bimbe, sono nate, ho iniziato, a fare questi album, di famiglia, non solo, ovviamente, dedicati, alle mie bimbe, principalmente, dedicate alle mie bimbe, ovviamente, ma, sono album, della famiglia, e io sono molto precisa, per cui divido le foto, per data, le appiccico, in ordine cronologico, sotto ogni foto, scrivo la data, il luogo in cui è stata scattata, magari, un pensiero, che ho, per, relativo, magari, all'occasione, in cui è stata scattata, quella foto, e quindi, uso tanto, tanto, tantissimo, le pene colorate, perché, faccio un album, da cartopazza, da buona cartopazza, quale sono, faccio un album, super colorato, con stickers, washi tape, e penne colorate, quindi, le uso, tantissimo, in particolare, volevo segnalare, che, queste penne gel, nei colori più chiari, quindi, fluo, o anche questo qua, sul foglio nero, scrivono benissimo, risaltano un sacco, sono stupende, io non lo sapevo, perché, io non sono un amante, dei fogli neri, devo dire la verità, però, cos'è successo, ordinato su Amazon, un nuovo album, perché avevo finito, quello che avevo, avevo finito, di appiccicarci le foto, quindi, volevo iniziarne un altro, e non ho fatto attenzione, io ero convinta, di averlo ordinato, assolutamente identico, a quello, a quello che avevo, e invece, mi è arrivato, con le pagine nere, sono andata a controllare, poi, nel mio ordine, e ho visto, che effettivamente, c'era scritto, che aveva le pagine nere, però, io, nella fretta, non ci ho fatto caso, però, comunque, mi dispiaceva, buttarlo via, o rimandarlo indietro, ho detto, sì, lo posso utilizzare, lo stesso, quando poi, però, mi sono accorta, che, che, le classiche, penne colorate, sul foglio nero, e lo scrivevano, quindi, avevo iniziato, magari ve lo faccio vedere, va così, mi spiego meglio, eccolo qui, l'album fotografico, di cui, vi stavo appunto, parlando, è un normalissimo, album foto, anzi, di quelli, oserei dire, super super classici, e come vedete, ha le pagine nere, lo faccio vedere dentro, prendo una pagina, in cui non ci siano le foto, perché, non mi va tanto, di far vedere le foto, ecco qua, è un normalissimo, album fotografico, con i fogli, semplicemente, di cartoncino, quindi, qui le foto, vanno incollate, o con la colla, o con il biadesivo, o con i triangolini, io uso il biadesivo, e amo, in particolare, questa tipologia, di album, perché, alle pagine, belle e grandi, le foto, si possono, appiccicare, come uno vuole, facendo anche, delle composizioni, e poi, ci si può scrivere, e quindi, quando mi è arrivato, questo album qua, mi sono resa conto, con le mie, che, con le mie, amate, penne colorate, non ci potevo scrivere, perché, essendo nero, non si vedeva niente, quindi, all'inizio, avevo fatto, vediamo se riesco a farvi vedere, qualcosa, senza mostrarvi, la foto, eccomi qua, giusto, perché, appunto, volevo farvi vedere, all'inizio, come avevo risolto, la questione, del fondo nero, inizialmente, appunto, dopo aver applicato, tutte le foto, i miei stickers, eccetera, ritagliavo, un pezzettino, di, di un foglio, normalissimo, bianco, da stampante, e lo appiccicavo, e scrivevo, con le mie penne colorate, sopra, al pezzettino, di, di carta, invece, che scrivere, direttamente, sul foglio, dell'album, come ho sempre fatto, fino, fino a che mi è arrivato, questo album nero, poi, invece, ho scoperto, che, appunto, quelle penne colorate gel, che vi dicevo prima, scrivono anche sul nero, e ora, vi faccio vedere, ecco quello di cui vi parlavo, scusate se ho coperto le foto, con i fogli, ma, come vi dicevo, preferisco non, non mostrarle, e, qua, ho iniziato, a scrivere, con le penne colorate gel, direttamente, sul cartoncino, dell'album, e, come vedete, si vedono, si vede perfettamente, la scritta, anzi, è molto, cioè, risalta tanto, mi è piaciuto, subito, quando mi sono accorta, che, i colori più chiari, perlomeno, quelli fluo, quelli più chiari, pastellati, diciamo, si vedono bene così, ecco, altre penne colorate, che vi mostro, sono, queste penne qua, della marca, io, io la chiamo, papermate, ma, sicuramente, non si dirà, papermate, ma si dirà, papermate, papermate, vabbè, lasciamo perdere, le pronunce, in inglese, e si può, vi faccio vedere, direttamente, la scritta, allora, queste non le ho, da tanto tempo, e quindi, non, non so, dirvi molto, perché non l'ho ancora, usate, usate per bene, sono, comunque, le ho prese su Amazon, trovate per caso, e hanno, questa punta, aspettate, questa scura, forse, non si vede tanto bene, prendiamone una chiara, hanno, hanno questa punta, a metà, tra un pennarello, e un tratto, penna, sono molto particolari, ora, ne proviamo qualcuno, insieme, e anche, la sensazione, quando uno, appunto, scrive, la sensazione, è quella, a metà, ripeto, tra un pennarello, e un, un tratto, penna, perché, anche il rumore, che fanno, non so se si sia sentito, anche il rumore, che fanno, per quanto mi riguarda, è tipica del pennarello, però, è molto più dura, la punta, rispetto a un pennarello, classico, hanno dei colori, bellissimi, questo sì, ve lo posso dire, l'effetto, che danno, sulla carta, effettivamente, oh, scusate, ero fuori, dall'inquadratura, l'effetto, che danno, sulla carta, effettivamente, ricorda molto, i classici pennarelli, a me piacciono molto, soprattutto, perché, oh, scusate, aspettate, che le rimetto, tutte qua, mi piacciono molto, perché, il range, di colori, è, è molto bello, secondo me, sono colori, un po' particolari, che comunque, nei pennarelli, normali, classici, secondo me, non sono belli così, purtroppo, non ho ancora avuto modo, ecco, di utilizzarle molto, ma, quindi, non mi sono ancora, fatta, proprio, un'idea, precisa, però, così, ecco, mi piacciono un sacco, vedete anche la differenza, per vedere, tra questi due viola, questo viola più chiaro, e questo viola più scuro, sembra quasi nero, ma non è nero, è proprio un viola, molto, molto scuro, molto curiosa, di, iniziare ad utilizzarle, ecco, adesso le faccio volare tutte, mi piace anche molto il packaging, che hanno, sono molto eleganti, le trovo, non lo so, mi piacciono un sacco, spero appunto, di, di avere occasione al più presto, di utilizzarle di più, e sicuramente, di apprezzarle di più, ecco, un'altra tipologia di penne, che vi mostro, questa è quella che vi ho fatto vedere prima, confrontandola con, con i tratto penne, sono, appunto, penne del tipo stabilo, Point 88, mi pare che si chiamino, ma non sono di marca, sono, se non mi sbaglio, del Lidl, non vorrei dire una cavolata, ma se non ricordo male, le avevo acquistate lì, credo che ci fosse anche, qualche altro colore, ma non ne sono certe al 100%, sono abbastanza vecchiotte, queste penne qua, quindi non ne sono sicura al 100%, può anche essere, che io abbia qualcosa di sparso in giro, e appunto, come vi dicevo, hanno la classica punta, degli stabilo, avendo la classica punta, degli stabilo, hanno questa, questa caratteristica, di cui appunto, vi parlavo prima, che per me, le rende un po', non tanto comode, ecco, perché, per farle scrivere bene, per quanto mi riguarda, ripeto, devo tenerle, più perpendicolari, al piano, rispetto a una penna normale, e questa cosa, per me, insomma, non me le fa preferire tanto, ecco, non me le fa piacere tantissimo, anche se sicuramente, sono delle buone penne colorate, scrivono bene, sono vecchiotte, queste, dico la verità, quindi, le ho usate tanto, assolutamente, anche queste, però, posso dire, che non sono, tra le mie preferite, un altro gruppetto, di penne colorate, ho cambiato anche il foglio, così, abbiamo di nuovo, un bel po' di spazio, per poterle provare, Allora, queste sono, penne della Faber-Castell, sono, penne normali, classiche, tipo Bic, per intenderci, quindi, non sono penne gel, penso, anzi, sicuramente, c'era qualche colore in più, cioè, era un kit, con qualche colore in più, solo che non me lo sono ritrovato, probabilmente, ce l'ho sfarso, in qualche altro, qualche altro portapenne, vabbè, pazienza, ma cosa dire di queste penne qua, io le adoro, mi piacciono tantissimo, mi piace la confezione, il packaging che hanno, mi piacciono i colori, mi piace la morbidezza della scrittura, sono proprio le classiche penne, ripeto, tipo la penna Bic, che conosciamo tutti, che a me piace molto, quindi, mi piacciono moltissimo anche queste, hanno dei bei colori, guardate che blu, bello acceso, adesso un po' che non le uso, quindi, magari all'inizio, fanno un po' fatica a riprendere, a riprendere la scrittura, però, devo dire che a me piacciono tantissimo, perché scrivendo sono morbide, il tratto è fluido, leggero, non lo so, a me piacciono un sacco, sarà, che sono le classiche penne colorate, le prime penne colorate, che io abbia mai avuto, erano, forse ai tempi degli elementari, queste penne qua, che erano profumate, profumavano di frutta, dicevano che erano profumati di frutta, non so se ve le ricordate, se magari trovo una, una foto nel web, perché ahimè, purtroppo, purtroppo non le ho più, ve la metto, ve la metto qui, e probabilmente, queste mi ricordano, quelle penne lì, nel modo di scrivere, ma le adoro, mi piacciono un sacco, comunque, queste qua, sono bellissime, se le trovate, prendetele, perché sono assolutamente consigliate, non costano tanto, scrivono benissimo, i colori sono belli, e niente, queste, mi piacciono, penso che si sia capito questo, considerando, la durata epica, che hanno i miei video, nonostante, io, mi fosse ripromessa, all'inizio, di non farlo durare, in una maniera esagerata, ma, evidentemente, non ci riesco proprio, probabilmente, anche perché ho tante, tante cose, da farvi vedere, e quindi, come, come nel video, in cui vi mostravo, la mia collezione, di washi tape, ho pensato, anche questa volta, di fermarmi qui, e di fare, una seconda parte, nel prossimo video, in cui vi mostro, la restante, mia collezione, di penne colorate, vi ringrazio, quindi, per aver visto, questo video, e ci vediamo, nella seconda parte, ciao!